A te che mi dicevi ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare parlando mi dicevi tutto questo e molto altro guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio e mi sembrava di restare ferma al punto di partenza di non essere capace di bastare mai a me stessa di non avere una certezza di non essere all'altezza e invece pensa nessuna conseguenza di te so stare senza non sei necessario alla mia sopravvivenza e invece pensa quel che mi sono persa di quel che è stato non resta nessuna conseguenza nessuna conseguenza eccoci ad una nuova puntata di Sportivamente Donna trasmissione della WISPA Bruzzo Molise nata da un'idea di Alberto Carulli anche oggi trascorreremo un po' del nostro tempo con due donne ospiti nuove abbiamo la dottoressa assessore regionale Marinella Scrocco benvenuta e ben trovata grazie buonasera a voi e poi abbiamo l'istruttrice di danza orientale e danza del ventre Ingrid Ciriaco ben trovata Ingrid bene allora cominciamo a conoscere queste nuove ospiti e di questa trasmissione abbiamo Ingrid che praticamente coltiva insieme alla sorella un solo amore e un'unica passione che è quella della danza ce ne parli un po'? Allora abbiamo iniziato questo percorso di danza da bambine con varie diciamo discipline e poi per arrivare nel 2003 alla danza orientale e danza del ventre con vari insegnanti e da qui nel 2007 abbiamo formato il nostro gruppo e dal 2011 abbiamo intrapreso la strada dell'insegnamento Quindi siete atlete e al contempo siete diventati istruttrici programmatrici ma vedo anche coordinatrici e responsabili dell'ex lega danza WISP Bruzzo Monise che oggi invece si chiama sezione danza di cui comunque tua sorella è sempre una componente del direttivo Invece per l'assessore Marinella un bello assessorato l'assessorato alle pari opportunità che comunque guardando un pochino gli ambiti di competenza leggevo che si occupa sì di politiche sociali pari opportunità inclusività sociale però a un certo punto ho letto una cosa che mi piacerebbe ci spiegarsi un po' piano regolatore dei tempi e tempo liberato Questa è una cosa interessante e credo utile da raccontare alle donne uno dei problemi delle donne uno dei perché poi diciamo che il percorso uno tra tanti il percorso per raggiungere le pari opportunità è un percorso lunghissimo l'obiettivo è alto e bisogna lavorare ancora tantissimo però uno dei problemi che le donne si ritrovano a dover affrontare devo dire lo affrontano anche molto bene perché noi sappiamo affrontare più cose contemporaneamente e a riuscirci è quello di poter conciliare il loro tempo libero il tempo da dedicare per esempio alla danza ho visto delle immagini di danza del ventre di danza orientale stupende quindi di poter ecco la difficoltà a voler conciliare anche una passione come quella della danza che parla anche della nostra femminilità che va assolutamente valorizzata sostenuta coccolata e il tempo da dedicare al lavoro e il tempo da dedicare anche alla famiglia molto spesso la donna è completamente assorbita dal lavoro è completamente assorbita dalla famiglia fa difficoltà ad incastrare queste due cose figuriamoci il tempo libero di fatto il tempo libero non è mai liberato come dice una delega la parte della mia delega benissimo a proposito appunto della donna che ha delle serie difficoltà ad approcciarsi nell'utilizzo del suo tempo libero perché poi di fatto questo tempo libero non c'è in quanto c'è il lavoro c'è la famiglia ci sono i figli poi ci sono ovviamente il seguire i figli in tutte le loro attività eccetera e quindi rimane molto poco spazio per fare il resto solitamente qual è la fascia di età che si avvicina alla danza e a questo tipo di danza in particolare che è quella appunto la danza del ventre dove si mette in rilievo la femminilità e la sensualità dell'essere donna allora di solito non c'è una fascia di età vengono sia bambine che adulte di qualsiasi età abbiamo diverse fasce orarie in modo che qualsiasi donna può trovare la sua ma prevalentemente? abbiamo guarda prevalentemente nella nostra scuola sono presenti ragazze sui 30-40 anni bene quindi c'è una fascia appunto dove si comincia a recuperare questo senso del proprio tempo quindi è una danza insomma che possiamo fare tutte questo punto poi forse anche la femminilità a quell'età è consapevole bravissima ha più contezza di sé esatto esatto quindi che bello uno magari prima neanche confuso la donna neanche confusa non sa come se è troppo se è poco come approcciarla forse invece a quell'età vuole a che bello ne sono consapevole la voglio ed è più difficile insegnare alle donne di questa età o anche più grandi o alle bambine alle ragazzine allora secondo me cioè più alle bambine perché le bambine a quell'età ancora non capiscono per loro è un gioco sono più disinibite esatto invece già a 30 anni 20 anni già chi viene a danza è perché sa quello che vuole sa quello che vuole fare invece la bambina si approccia magari non magari non le piace oppure si vergogna senti Marinella io ho visto scorrendo un pochino la tua pagina Facebook mi è piaciuto tantissimo e mi ha colpito la tua immagine di copertina dove riporti una frase di Alice nel paese delle meraviglie e dici a un certo punto questo lo dice il bianconiglia d'Alice scappiamo Alice perché qui sono tutti normali come mai? allora intanto quel racconto di Carol io credo che sia ricco di metafore che uso spesso devo dire perché è pieno di spunti un po' folli io li uso anche con i miei pazienti quando li avrevo è anche molto attinente e pertinente alla tua disciplina insomma sì perché è talmente tanto colorato quel racconto è pieno di cose da dire che è sempre attuale comunque che è sempre attuale sì e quella frase mi piace tantissimo perché per tanti motivi una volta la mia professoressa al liceo ci fece fare un tema la normalità uccide ribellati questo era il titolo impegnativo però insomma molto stimolante quindi che cos'è la normalità che cosa non ci piace della normalità e che cosa invece vorremmo di diverso l'ho messa quella su facebook perché ultimamente credo che quei social quelle piazze virtuali che hanno sostituito di fatto il vis-à-vis mi sembra che tutto sia normalizzato cioè è possibile fare tutto e il contrario di tutto non ci si scandalizza più di niente o ci si scandalizza assolutamente di tutto mi sembra diciamo veramente un mondo un po' folle quindi ti sembrava la frase più azzeccata per quel contesto esatto anche cose assolutamente assurde per me vengono normalizzate cioè un relativismo imperante e quindi oddio aiuto qui tutto sembra normale quando invece magari non lo è ci sono mille sfumature esatto potrebbe essere allora Ingrid insieme a tua sorella hai messo anche una scuola ovviamente che ha la sede a Martinsicuro e poi ne avete un'altra seconda a San Benedetto quindi vi dovete anche dividere immagino come spazio proprio fisico per poter andare e poi insegnare o comunque ad essere presenti come come vivi diciamo questa difficoltà unitamente al fatto che continuerai sicuramente a coltivare la tua passione il tuo amore perché non sono insegni immagino che comunque continui a danzare esatto noi praticamente cerchiamo di creare più orari come dicevo in modo da poterci spostare anche a organizzarsi ma sola o insieme? di solito facciamo insieme andiamo insieme quindi le donne quando stanno insieme sono veramente irrefrenabili nel senso riescono prima ne parlavamo con Marinella un disappunto se vogliamo per l'essere donne è questo che spesso le donne non sono solidali tra di loro quando invece riusciamo a creare un sodalizio è vero questo si può creare infatti quello di cui parlavamo in questi giorni è che noi abbiamo creato un gruppo noi siamo tre diciamo pilastri dentro la scuola che studiamo insieme andiamo fuori e ci organizziamo negli vari spettacoli e abbiamo formato un gruppo con queste ragazze che sono venute a scuola a imparare questa danza e c'è armonia tra di noi cioè si è creata una bella situazione in modo c'è un'empatia che vi permette di lavorare e arriviamo anche al pubblico con questo perché spesso arriviamo le persone rimangono magari colpite dal nostro stare insieme dal nostro andare d'accordo certo ci sono litigi è normale siamo donne ma il litigio poi si è costruttivo esatto però ci vogliamo bene quindi le persone arriva sicuramente l'aura positiva di cui noi siamo capaci di circondarci di trasmettere ci permette anche poi di farlo arrivare nelle altre persone negli altri contesti sei d'accordo per marionella sì sì non è vero che le donne sono litigiose tra di loro in assoluto non è assolutamente vero i nomini fanno a cazzotti di continuo io potrei parlare però c'è qualcosa che ci immagino per mesi quindi non è vero sono dei pregiudizi in realtà le donne sanno fare squadra sì però spesso magari ci ritroviamo a stare più giorni magari insieme quello stare insieme magari si è in disaccordo su alcune cose però comunque se c'è dialogo le donne quando fanno squadra sono litiganti assolutamente bisogna poi saper litigare trasformare la lite in qualcosa di positivo sicuramente sì perché appunto quando fanno squadra non ci ferma nessuno è vero quindi insomma un po' dobbiamo imparare anche come dire a fare maggiormente squadra o ad apprezzarsi un po' di più senza ricorrere poi a delle azioni subdole o meschine che non portano da nessuna parte anzi fanno molto male proprio all'essere donna a questo diciamo a questo mondo della femminilità che ha tutti i suoi pregi che ha anche tutte delle sue connotazioni particolari sicuramente tu però insegnando e praticando la danza avrai avuto grandi soddisfazioni grandi risultati ma anche molti sacrifici perché non si ottiene assolutamente nulla in maniera gratuita grandi sacrifici grandi privazioni grandi rinunce insomma ci sono i pro e ci sono i contro sono più i pro o sono più i contro ad oggi? penso sono più i pro perché bisogna se uno riesce a organizzare il tutto bisogna avere anche persone giuste vicino per fare tutto di nuovo la squadra esatto scendere collaboratori però sì ci sono comunque come dicevi pro e contro cioè nel senso devi fare delle rinunce però cioè se tornassi indietro fareste esattamente tutto come lo hai fatto e tutto ciò che hai fatto? eh per quanto riguarda la danza sì sì per quanto riguarda poi la vita personale forse ognuno di noi vorrebbe correggere qualcosa per quanto riguarda la danza sì bene senti Marinella allora ovviamente assessorato alle pari opportunità pari opportunità di cui si parla anche nella pratica sportiva per esempio abbiamo avuto finalmente l'approvazione della carta dei diritti della donna nello sport che è stato un percorso che è partito da lontano ed è stato anche fortemente sostenuto dalla WISP Olimpia tu ritieni che nello sport ci sia bisogno di pari opportunità ancora oggi? sì assolutamente sì come in tantissimi campi che non sono solo quelli della politica quelli della politica sono quelli che forse sono più visibili quindi dove visibilmente mancano le donne ma in realtà le pari opportunità occorrono in tutti i settori ci sono pochi rettori donna dell'università i primari sono quasi sempre uomini insomma ci sono molte categorie che hanno ancora bisogno di come dire di integrarsi o di essere integrati di essere moderni diciamo davvero lo sport è comunque uno di quelli senza voler fare nessuna polemica o andare a parlare di cose molto anche brutte che sono successe nel mondo dello sport però io non dimentico Belolli che era appunto il presidente della Lega che appunto parla di un consiglio direttivo della Lega Calcio Femminile se non sbaglio dice basta dare i soldi a quelle lesbiche il che è tutto dire c'è anche una legge che stabilisce quali sono di sport professionistici e sono tutti di categoria maschile insomma anche lo sport dovrebbe fare questa carta dei diritti era comunque un documento che cristallizzasse era necessaria questa necessità cioè il riconoscimento di queste pari opportunità anche nello sport per non parlare e chiudo davvero dei momenti di maggiore io non dico fragilità perché quando si è in maternità si ha una forza stratosferica e la donna è un leone però sicuramente no è necessario dare delle energie maggiori a se stessi al proprio figlio alla coppia alla famiglia in generale in quel momento e proprio lì vanno a colpire coloro che non praticano le pare opportunità c'è stata una famosa atleta di tennis da tavolo olimpica che appunto è stata estromessa proprio perché non aveva potuto fare gli allenamenti perché era in maternità quindi insomma veramente bisogna fare una considerazione del suo essere naturalmente esatto quindi il cartellino non lo poteva firmare degli allenamenti ecco diciamo così banalmente ma questo per dire che davvero bisogna fare tanto anche nello sport c'è ancora tanto da fare Ingrid so che sei stata protagonista di uno scherzo che è stato montato un po' di tempo fa ed è stato costruito sembra anche molto bene perché siete finiti praticamente su Italia 1 alla trasmissione studio aperto dove praticamente avete creato uno spot scherzoso tipo uno scherzi a parte una roba del genere di cosa si trattava e come si è svolta questa cosa? Praticamente lo shake eventi tramite lo shake eventi ha organizzato questo scherzo ad Alba Adriatica facendo credere soprattutto ai turisti perché magari quindi era nel periodo estivo esatto nel periodo estivo era agosto nei primi non mi ricordo verso i primi di agosto del 2011 e abbiamo fatto credere che comunque era arrivato questo questo shake che voleva acquistare gran parte di Alba Adriatica e quindi aveva portato con sé le danzatrici del ventre aveva portato anche mi sembra la figlia che era una ragazza che doveva essere promessa e sposa insomma articolato come scherzo molto articolato molto ben preparato esatto c'erano i soldi finti c'era tutto e infatti molti turisti si chiedevano ma guarda cioè erano curiosi da questo evento e poi dopo il giorno dopo praticamente c'è stato proprio un piccolo sketch su Studi Aperto e dove siete riusciti a fare breccia anche a vostra insaputa su un canale molto seguito molto importante e a proposito dei soldi diciamo c'erano anche dei soldi mi stavi dicendo di questi soldi finti ti chiedo anche questo perché so che voi in un qualche modo siete anche presenti nelle feste di rievocazione del medioevo un po' come quello che abbiamo anche qui in Abruzzo però voi se non sbaglio siete state presenti in Sicilia in qualche località siciliana sì comune in provincia di Catania per due anni di fila siamo state protagoniste di questa festa medievale che dura nove giorni ed è anche molto affollata ci sono molte presenze esatto vengono già persone proprio da da tutta da varie parti della Sicilia a vedere proprio questa festa perché è grande e comunque dura tanti giorni quindi una grande soddisfazione è un bellissimo momento sì perché poi comunque si creano anche amicizie sul posto comunque anche a livello professionale si creano amicizie tra stessi e si cresce si cresce si si ritrova nelle varie feste ci si danno opportunità esatto ci si danno opportunità Marianella come dicevi prima nell'ambito della politica forse più intangibile è il fatto che non ci sia piena parità tra gli uomini e le donne cioè tra l'essere uomo e l'essere donna io so che è stata approvata appena approvata dal consiglio regionale perché lo ha detto questa mattina il nostro presidente della regione Luciano D'Alfonso che con molta soddisfazione lui ha detto che è stata finalmente approvata questa legge che prevede la diciamo preferenza di genere anche nelle elezioni regionali ce l'avevamo per le amministrative è arrivata in Abruzzo anche su queste elezioni regionali allora chi è stato intanto il promotore di questa legge perché si può essere anche soddisfatti di una legge ma qualcuno la deve presentare qualcuno la deve preparare sono contenta che il presidente si dica soddisfatto perché non è stato affatto semplice l'iter di questa legge una legge che presentai io sei anni fa fu bocciata la prima volta sei anni fa c'era un altro presidente perché solamente in sei votammo favorevolmente alla doppia preferenza di genere l'ho ripresentata due anni fa ci sono voluti ben due anni per finalmente approvarla arrivare a maturazione a maturazione quindi all'unanimità in realtà questa legge è uno strumento come tutti gli strumenti possono essere usati dovrebbero spero potranno essere usati bene dai partiti che dovranno poi formare le liste elettorali ma lo strumento è mano agli elettori perché noi grazie a questa questa legge diremo ai cittadini abruzzesi che potranno scegliere ben due nomi e quindi scrivere votare ben due persone sulla scheda elettorale purché siano di genere diverso quindi potranno fare o come sempre votarne una votare una persona sola oppure scegliere quindi un grande potere che si dà un potere in più diciamo che gli si raddoppia questo voto vale doppio vale doppio l'importante è votare maschio e femmina quindi di genere diverso quindi numericamente avremo un consiglio diverso perché io sono stata sempre da sola dovremmo avere si spera si spera che possa aiutare pare insomma infatti ti dico qual è la mia perplessità su questa legge allora innanzitutto mi voglio complimentare con te perché comunque la legge è tua la legge è tua diciamolo chiaramente che la legge è dell'assessore Marinella Scroo poi la precisazione o comunque la doglianza è che non si dovrebbe arrivare in un paese civile a dover fare una legge per tutelare anche la partecipazione delle donne alla vita politica ancora peggio se abbiamo soltanto una preferenza di genere poi non abbiamo un'obbligatorietà nella costituzione dei consigli diventa un po' difficile questa cosa però voglio dire cominciamo da qualche parte cominciamo assolutamente antipatico e maturo in una società che si dica democratica a dover inserire correttivi per le pari opportunità sono assolutamente d'accordo io non l'avrei mai voluta presentare però il fatto reale è che io sono stata eletta da sola dieci anni fa in consiglio regionale sono da sola in maggioranza questa volta ero da sola 15 anni fa in consiglio provinciale quindi è difficilissimo essere eletti non impossibile perché io sono stata sempre eletta ma è difficile perché sono stata eletta sempre sola le donne fanno difficoltà proprio per quello che dicevamo all'inizio cioè conciliare tutto è molto difficile e spesso si rinuncia a questo aspetto esatto in un qualche modo comunque tu oggi sei ancora sola o molto sola dentro il consesso politico regionale insomma non hai solissima c'è una collega che è Sara Marcozzi che si candidò presidente dei 5 Stelle ma a parte lei siamo in due siamo in due su tanti consiglieri su un numero sconsiderato di uomini ripeto che vanno insomma che va bene ma va male perché le donne devono essere rappresentate nelle istituzioni lì fuori c'è una complessità ma i colleghi maschi quando sedete nei consessi quindi in consiglio o in giunta vi vedono come donne vi trattano da pari no c'è una ovviamente non generalizzata ma poi non è neanche a volte non è neanche consapevole io vedo che lo fanno molto spesso perché è naturale è talmente tanto una cosa antica una riminiscenza una cosa che loro fanno naturalmente che per alcuni non è fatta con nessun tipo di cattiveria o di malignità però c'è un atteggiamento paternale che è evidente evidente ad una donna attenta perché ripeto magari per altri potrebbe essere normale potrebbe far sentire più sicura a me non fa sentire più sicura per niente però non ti inibisce assolutamente no dico che mi dispiace dico che mi dispiace perché dobbiamo fare veramente ancora tanto tanti passi avanti tutti affinché appunto questo atteggiamento del padre o dell'uomo che deve consigliare che ti deve dire che perché tu devi sempre dimostrare possa sparire bene Ingrid allora progetti speranze sogni nel cassetto allora per il momento stiamo organizzando il saggio che si terrà il primo luglio nell'editorium pacetti a cento buchi abbiamo un'estate piena di eventi quindi stiamo organizzando tutto quindi avete praticamente un un sold out avete tutto pieno tutto riempito sì tutto messo per bene insomma siete praticamente coperte per questa stagione benissimo allora Marinella io ti faccio intanto un grande in bocca al lupo e di nuovo complimenti per essere riuscita dopo sei anni ad affermare come dicevamo prima sulla carta dei diritti delle donne nello sport non dovrebbero servire ma se ce ne è bisogno comunque cominciamo da qualche parte il tempo a nostra disposizione è finito io quindi saluto di nuovo l'assessore regionale Marinella Scrocco saluto l'insegnante istruttrice di danza e responsabile del settore danza WISPA Bruzzo Molise Ingrid Ciriaco saluto tutto il pubblico di Sportivamente Donna e di TV6 saluto l'addetta alla camera Silvia Gentile ringrazio e ringrazio anche l'addetto alla regia Maurizio Dagui vi lascio un arrivederci alla prossima puntata di Sportivamente Donna a te che mi dicevi ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male ancora hai troppe cose da imparare devi solamente stare zitta e ringraziare parlando mi dicevi tutto questo e molto altro guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio mi sembrava di restare ferma al punto di partenza di non essere capace di bastare mai a me stessa di non avere una certezza di non essere all'altezza e invece pensa nessuna conseguenza di te so stare senza non sei necessario alla mia sopravvivenza e invece pensa quel che mi sono persa di quel che è stato non resta nessuna conseguenza è una conseguenza di non essere capace di non essere capace di non essere capace